Ah, devo andare ad Adventure Bay, così Travis il viaggiatore vedrà questo vero finto mostro e mi seguirà fino a Foggy Bottom. Aiuto! Oh, guardate, che strana e misteriosa creatura è mai quella. Hamsquatch, Hamsquatch. Meglio chiamare la Poe Patrol. Forza, Marshall, salviamo quel Hamsquatch. Sembra così spaventato. Ecco perché dovrai essere molto gentile quando lo raggiungerai per portarlo giù. Ricevuto, Ryder. Scala! Tieni duro, grosso amico peloso, ti tiro giù. Era ora che arrivassero quegli sciocchi cuccioli, cioè... Adesso cerca di farlo voltare e di farlo scendere da lì. Il mio Hamsquatch è arrugginito. Invece no, parlo Hamsquatch. Raider, l'Hamsquatch è impigliato in una roccia. Rispondi, Sky. Devi venire a salvare l'Hamsquatch. Ricevuto, Raider. Niente paura, signor Hamsquatch. Arrivano i rinforzi. Fermi tutti. Quello non è un animale. Cioè, da voglio dire... Il sindaco Hundinger. Il mio piano del mostro finto non ha funzionato. Se solo ci fosse un vero mostro a Foggy Bottom. Gattini, siete stati voi? Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon. Cavalieri del soccorso, siamo pronti all'azione, signori. Chloe e il suo drago volante stanno venendo qui. Noi dobbiamo riuscire a tenerli alla larga dal castello. Ma, Raider, come facciamo noi a fermare un drago volante sputafuoco? Con i nuovi veicoli dei Cavalieri del soccorso. Per questa missione mi servirà Marshall. Userai la tua lancia ad acqua per spegnere gli incendi causati dal drago. Questo cucciolo cavaliere non aspettava altro. Ah, bene. Al lavoro, Cavalieri del soccorso. E adesso facciamo un buco nel ponte e assalchiamo il castello. Che cosa? Ti conviene chiudere l'acqua, Sir Zuppo. Vai! E sono Sir Marshall, un Cavaliere del soccorso. Spurks, prendi il volo! Ehi! Scendi dal mio drago! Non posso farlo senza aver ripreso il dente di drago. Spurks, vola a testa in giù! Oh, no! Chase! Adesso! Uh! Drago rete! Sto bene! Ma il dente di drago magico si è rotto. Marshall, questo è un bene! Chloe adesso non può più controllare il drago. Guarda! Spurks! Aspetta, no! A nome di tutta Barkinburg, per aver salvato il nostro regno, vi ringrazio. Quando un drago diventa un po' troppo focoso, noi siamo a disposizione. Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon. Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! I gattini del sindaco Hamdinger sono sull'auto del Clown Toodles e viaggiano fuori controllo. Per questa missione avrò bisogno di... Chase! Ci pensa Chase! E... Sky! Preghiamo subito il volo! Bene! Al lavoro! Paw Patrol! Non temete, gattini! Qualcuno che non sono io mi salverà! La dobbiamo rallentare! Sky, abbassa Toodles fin sopra l'auto! Adesso, Toodles, togli la chiavetta! Hai un po' d'olio nel cappello con cui allentare la chiave? Oh no! Così rischia di scivolare! Ce l'ha fatta! Ottimo lavoro, Toodles! Oh, i miei gattini! Sono in salvo! Sì! Yuhuu! Oh! Aiuto! Rocky, Zuma, servono rinforzi! Semaforo verde, signore! Stiamoci dentro! Meglio affrettarsi! Si dirige verso la festa di Alex! Attenzione! Il sindaco Hamdinger rovinerà la mia torta! Non se ci sono io! Oh! 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 Avete salvato la torta e la festa! Grazie, Paw Patrol! Non c'è di che, Alex! Ogni volta che perdete il controllo di un clown, noi siamo... A disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Danny ha scelto un brutto posto per fermarsi a pranzo. Nel bel mezzo di un canyon. E così, il vento lo ha ribaltato! Almeno indossa l'imbracatura di sicurezza, ma lo dobbiamo tirare giù! Rete di sicurezza in arrivo! Ciao, Danny! Il mio nome è Danny X... Il temerario! Adesso ti aiuto a rimetterti dritto! Stai attento! Non vorrei che il mio delizioso pranzo estremo cadesse! Va bene, ma siamo qui per salvare te! Il pranzo aspetterà! Pinze! Ottimo! Ce l'abbiamo fatta! Quello è Raider! Ci sono quasi! Grazie per la rete, Chase! Grazie! Non sapevo che questa bici potesse volare! Questo video sarà un successo! Guardate come atterro con la mia bici! Oppure no? Danny è ancora nei guai! Cuccioli, presto! Dovete decollare tutti se vogliamo salvarlo! Rete! Ci pensiamo noi all'atterraggio? Credo che questa sia un'ottima idea! La Poo Patrol è la migliore! Che giornata, miei cari fan! E l'atterraggio di questo numero temerario è stato a cura della Poo Patrol! Grazie, Raider! Ehi! In ogni occasione temeraria, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Poo Patrol su Nickelodeon! Guardate! Un mostro! Ma che razza di mostro montanaro è mai quello? Non ho mai visto una specie simile! È ora di andare, Danny il temerario! Sono Danny X il temerario! E vedere un vero mostro sarà troppo estremo! Estremamente spaventoso! Andiamo via! Come vorrei che fosse più veloce! Ci penso io! Wow! Sì! Sì! State tutti bene? Cos'è successo? Stavamo andando troppo veloci e ora si è rotta! Almeno quassù siamo a Montemiglia da quel mostro! Un mostro, hai detto? Era alto! È verde! Ed è andato nel bosco! Chiamola Poo Patrol! Scala! Ciao Alex! Prima tu! D'accordo! Attento Alex! Non... Stiamo bene! Grazie Ryder! Spero anche che troviate quel brutto mostro! Everest! Hai trovato qualcosa nel bosco? Ryder! Ha trovato il mostro! È il sindaco Goodway coperto di fangovente! Ma ora sta scendendo a palle su uno snowboard fuori controllo! Resista, sindaco Goodway! L'aiuto io a fermarsi! Oh! Scusi, signora! No! Sindaco Goodway, sta bene! Adesso sta bene! Grazie a te, Everest! Grazie, Poo Patrol! Di nulla, sindaco Goodway! Ogni volta che si sente mostruosa, noi siamo... A disposizione! Guarda gli episodi completi di Poo Patrol su Nickelodeon! Sindaco Goodway, va tutto bene? Lascia perdere la signora in cima alla statua della gallina! Adesso Adventure Bay appartiene alla Banda Bow Bow! Banda Bow Bow! Banda Bow Bow! Nessun centauro è troppo dispettoso per un cucciolo coraggioso! Poo Patrol, gli unici che possono fermare quei cattivi su due ruote sono i motocuccioli! State a vedere! Cuccioli, diamo il benvenuto al primo componente gatto della Poo Patrol! Wild Cat! Miau, fantastico! Sì! Wild Cat! Quella deve essere la rimessa dei motocuccioli! È ora che la Banda Bow Bow consegna un bel regalo distruttivo a domicilio! Vanno verso il burrone! Pronto, Wild Cat? Miau, super booster attivazione! Ehi, fermate quella ruota! Così finirete dentro a quel burrone! Ce l'ho fatta! Gran bel numero, Wild Cat! Ora cerca di bloccare le ruote con un gomitolo! Lasciate fare a me! Miau, spara gomitoli! Ottimo lavoro, Wild Cat! Sapevo che ce l'avresti fatta! Bravissimo! Bravo! Benissimo! Che fa il salvataggio! Guarda gli episodi completi di Poo Patrol su Nickelodeon! Poo Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! La nuova cangura dei Wingnut sta saltando per tutta la città e ha lanciato Alex in cima alla ruota panoramica! È davvero un bel salto! E ora Ops è scomparsa! Marshall, dovrai usare la tua scala per tirare giù Alex! E Chase, serviranno le tue abilità investigative per trovare le tracce di Ops! Al lavoro, Poo Patrol! Marshall, sai cosa fare? Chase, mettiti sulle tracce della cangurina! Presto, Marshall! I miei pantaloni stanno... In arrivo! Stai bene? Sì! Grazie, Marshall! Eccola là! Megafono! Ops! Vieni qui, bella! È ora di tornare a casa! Sembra proprio che stia cercando qualcosa! Cicaletta! Ma se Cicaletta è qui, significa che Joy è con il sindaco Goodway alla gola! Sindaco Goodway! Adesso siamo noi nei guai! Skye, Rocky, venite alla gola graziosa! Subito! Sì, che voto! Accidenti! Skye, affarra lì con il gancio! Presi! Rete! Oh, no! Incredibile! Ben fatto, cuccioli! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Un forte rumore nella giungla ha spaventato un cucciolo di elefante e il suo papà! Dobbiamo agire in fretta e tirare fuori il cucciolo dalle sabbie mobili prima che sprofondi! Per questa missione mi servirà... Rubble! Rubble come un razzo! E Rocky! Semaforo verde, signore! E Chase! Ci pensa Chase! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Va tutto bene, campione! Sta per arrivare la Paw Patrol! Ponte di pietre in arrivo! Wow! Queste sabbie mobili sono profonde! Proviamo con questo? Ottima idea, Rocky! Se la pietra non funziona, proviamo con il legno! Argano! Aziona l'argano, Chase! Argano! Indietro! Il veicolo è pesante! Dobbiamo cercare di ancorare il veicolo! Grazie, amico gigante! Rubble, metti quel tronco sotto di lui! Ci penso io a sganciarlo! Fai attenzione, Rocky! Ottimo lavoro, amici! Non c'è di che, papà elefante! Ricordate, ogni volta che sentite uno strano suono, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Sentite come fischia il vento! Sono felice di dormire dentro stanotte! Salve, signor All... Rider, ho un problema con un porcellino! I duoni hanno spaventato Corny ed è scappato! L'aiuteremo a trovarlo! Corny! 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 Eccolo là, Rider! Vedo Corny nel canyon! Andiamo! Ecco dov'era! Rimarrà nei paraggi se vi serve aiuto! Chase, dobbiamo calarci! Ventose! Va tutto bene, Corny! Sarai in salvo in un batter di coda arricciata! Bene, ora andiamo a casa! Oh! Corny ha troppa paura per venire! Sky! Cala l'imbracatura! Presa! Tranquillo, Corny! Ti aiuteremo a tornare dal signor All! Tiralo su, Sky! Si parte, maialino! Rider! Quei fulmini sono proprio sopra Adventure Bay! Sky! Non voglio che voli vicino al temporale! Gira intorno alle montagne sopra la baia! Allora, Corny! Faremo un giro un po' più lungo, ma ti riporterò a casa! Saremo quasi arrivati, Corny! Se solo vedessi la fattoria! Fantastico! Sulla testa! Quelle sono mucche? Già! Ti indicano la via! Oh! Ecco finalmente il mio Corny! Oh! È bello riaverti qui! Grazie per avermi riportato, Corny! Grazie a tutti voi! Nessun problema, signor All! In ogni occasione, noi siamo... A disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Cuccioli! Dobbiamo rimettere Travis nel cesto e riparare il buco nel pallone! Aiuto! Quindi, per questa missione mi servirà... Rubble! Rubble come un rozzo! E rocchi! Sembra vero verde, signore! Rubble! Rocky! Via, via, via! Eccola là! L'isola di Big Big! No, Travis, aspetti! Questa roccia non mi sembra affatto rocciosa! Sembra fatta... ...di piume! Resista, Travis! Ryder e i cuccioli stanno arrivando! Presto! Ripara quel buco, Rocky! Uh! Spara a colla! È ora di usare la colla presa rapida! Adesso usa l'aspirapolvere per riempire il pallone di aria calda! Aspirapolvere! Allora, Travis, stia pronto a saltare sul mio overboard e a tenersi forte! Magari ci riprovo quando Big Bill si calma un po'. I Pellicani adorano i pezzetti di polpo! Ah! Per un pelo! Si tenga forte, Travis! Ora la riporto al suo pallone! Un'altra missione compiuta dal vostro Travis il Viaggiatore! Ed è così che ho trovato accidentalmente la leggendaria... ...isola di Big Bill! Grazie alla Paw Patrol! Non c'è di che, Travis! Ogni volta che atterra su un Big Bill, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Il Dizzy Dust Express ha misteriosamente superato la stazione. Lo dobbiamo raggiungere e scoprire perché non si è fermato. Per questa missione mi servirà... ...Sky! Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Non sia fuori controllo! Non c'è nessuno alla guida! Inizio la ricerca aerea dei passeggeri scomparsi! Vedi niente, Sky! C'è qualcosa qui davanti! Li ha trovati! Si sono rifugiati nel capanno! Wow! Ma i diavoli vorticosi hanno spinto un cumulo di rocce... ...che ora blocca la porta del capanno! Sono trombe d'aria delle piccole tempeste di polvere! Wow! Quelle trombe d'aria sono davvero potenti! Rubble, quando saremo lì, prendi la scavatrice e rimuovi i massi che bloccano la porta... ...così porteremo i passeggeri a bordo del Paw Patroller! Ci penso io! Oh no! Oh no! Andiamo! Che bello! Lo spingete, per favore! Il Dizzy Dust Express è pronto per un'altra corsa! Lo apprezzo molto, Rocky! Grazie, Ryder! Cuccioli, avete salvato il tre! Non si preoccupi! E ricordi, ogni volta che tira vento, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Dobbiamo aiutare il sindaco Goodway e la sua amica Elga Hamdinger a risalire da una scarfata! Per questa missione avrò bisogno di... Chase! Chi pensa Chase? La parete della scarfata è molto liscia e sarà difficile avere dei punti d'appoggio, quindi avrò bisogno di... Rubble! Rubble come un razzo! Bene! A lavoro, Paw Patrol! Ehi là, sindaco Goodway! Signora Hamdinger, state bene! Oh, molto meglio ora che siete qui! Allora, Ryder, i miei cavi dovrebbero arrivare fin laggiù! Ma questa parete è molto scivolosa! Con la mia gru sarà facile! Grazie, Rubble! Woo! Argano! Argano! Inghietro! Riappoggi lentamente! Tenetevi forte! Oh, grazie infinite, Paw Patrol! È stato un piacere! Ora andiamo a cercare il sindaco Hamdinger! Oh, io devo raggiungere quel fiore! Ah, sì! Non rotolare, non rotolare! Voglio la mia ammi mammi! Io sono qui, ammi gammi! Oh, grazie, mammina! Guarda, madre! Ho trovato il tulipano chioccia! Wow! Bravo! Ora tutti quanti possono godere della bellezza del tulipano chioccia! Grazie al coraggioso salvataggio della Paw Patrol! Non c'è di che, sindaco Goodway! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Non so perché, ma sembra che il sindaco Goodway stia andando in giro in moto insieme alla banda Baubau! Cicletta! Non mi sembra molto prudente! Quindi per questa missione mi servirà... Sky! Userei la tua moto volante per cercare di rintracciare il sindaco Goodway! Questo motocucciolo ha imparato a correre e volare! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Allora? Faccio parte della banda? Nessuno entra nella banda senza aver superato la sfera d'acciaio! Allora, Badway, pronta per il test? Facci vedere che sai fare! Va bene! Cicletta, sei pronta per la prova? Raider, il sindaco Goodway è dentro una sfera d'acciaio gigante! Avremo bisogno di tutti i cuccioli per fermare la sfera! Arriviamo subito, Raider! Rubble, usa le scavatrici per costruire una collina laggiù! Rubble come un motoranzo! Ce l'abbiamo fatta! Va tutto bene, sindaco Goodway? Sì, grazie! A Cicaletta gira un po' la testa! Raider, non so davvero come ringraziare i motocuccioli e Wildcat per aver protetto me e Cicaletta da quella banda! E anche un po' da me stessa! Nessun problema, sindaco! Quando è nei guai con la banda Baubau, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! La Flander si è arenata sull'isola Coccodè e le galline che vivono laggiù hanno bloccato Cicaletta sul loro trono! Per questa missione mi servirà... Rocky! Semaforo verde, signore! E Sky! Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Raider! Grazie al cielo, siete qui! Quei paw li adorano così tanto la mia gallinella da non lasciarmi avvicinare! Sì, tra l'argino Coccodè! Sarà meglio distrarle con qualcosa! Ma quelle galline non la lasciano neanche un secondo! Forse mi è venuta un'idea! Robo Cucciolo, mi serve un ritiro speciale! Ancora un altro chiodo ed è fatto! Grazie! Rapido, Rocky! Quelle nuvole stanno navigando verso di noi! La tempesta sta tornando, Raider! Dobbiamo sbrigarci! Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Accendete le luci, Cuccioli! Torcia elettrica! Sky! Adesso! Ti ho presa! Forza, Cuccioli! Alla Flander! Fortuna che la Flander è a posto! Otori, avanti tutta! Oh, Poopatrol! Come posso ringraziarvi per questo salvataggio? Ogni volta che c'è una regina Coccodè da salvare, c'è sempre una statua d'oro! Guarda gli episodi completi di Poopatrol su Nickelodeon! Poopatrol, siamo pronti all'azione, signore! Siamo in una situazione appiccicosa! Mandy è altra! Il vento le ha spinti ancora più in alto! Continua a seguirle! Arrivano i rinforzi! Rispondi, Chase! C'è bisogno della tua rete per far scendere in sicurezza le scimmiette! Ci pensa, Chase, signore! Tracker! Fa scoppiare i palloncini con i cavi! Chase prenderà le scimmie con la rete! D'accordo, Raider! Ci provo! Uh, rete! Presa! Oh no! È rimasta appiccicata la rete! Ora come facciamo a salvare l'altra scimmia? Mi è venuta un'idea! Rocky, l'ultima scimmia viene verso di te! Ci serve il tuo aiuto per salvarla! Siamo a foro verde, signore! Eccomi, Raider! Cosa facciamo? Devi invertire l'azione dell'aspirapolvere per fargli gettare fuori l'aria! Trasformeremo questo ciclo in un palloncino su cui far atterrare Mandy! Ancora un po' più grande! Oh oh! Il becco del Tucano è molto appuntito! Sì! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Sono pronti i tuoi sottaceti frizzanti, nonno! Questa partita è davvero molto frizzante, eh? Caricchiamoli! Aspetta, ne manca ancora uno! Attento con quel barattolo! Se lo agiti troppo, il gas potrebbe farlo esplodere come una bottiglia di soda! Su questa strada! Si balla! Che cos'è questo rumore? Forse erano un po' troppo frizzanti! Aiuto! Signor Porter, sta bene? Io sto bene, ma temo che il furgone sia incastrato! Ci pensiamo noi! Chase, ci serve il tuo organo! Ci pensa Chase! Dov'è il furgone del signor Porter? È caduto al lato della strada ed è rimasto bloccato! Woo! Argano! Sono giù, Ryder! Sky, cala l'imbracatura per il signor Porter! Woo! Imbracatura! Si regga forte! Ryder, come rimorchiamo il furgone del signor Porter? Se solo ci fosse il modo di farlo saltare fino alla strada! Ottima idea! Ha bisogno dei sottaceti frizzanti! Rocky, sono rimasti dei barattoli chiusi! Sì, ne è rimasto uno! Agitalo e mettilo sotto il furgone! Barattolo in posizione! Sto tornando su! Toc, toc! Chi è? Correte! Correte! Correte perché qui si mette male! Sta per esplodere! Gente, state indietro! È il mio! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Poe Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Olivia lo struzzo è nei guai! Tranquilli, Olivia se la caverà perché noi la aiuteremo! Rubble! Userai la glu per spostare la roccia e liberare Olivia! Sky! Tu userai l'imbracatura per tirare fuori Olivia dal canyon! Bene! Al lavoro! Poe Patrol! Rider! Puntuale come sempre! Sta tranquillo, Oscar! Salveremo Olivia! Guru! Presa! Ora sollevala! Bene, Sky, usa l'imbracatura! Non credo che a Olivia piaccia volare! Devo metterla giù! Dobbiamo trovare un altro modo per farla tornare al suo nido! Povera Olivia! Le fa male la zampa! Di sicuro non può camminare fino a casa! No! Horsi! GodEL! Ti hela passou che abbia la sc wonderfully! Me ha già detto. Ho fatto! Do numeri! Forse! No! No! Grazie, Robo Cucciolo! Grazie per aver salvato la famiglia di Struzzi, Ryder! Non c'è di che! Ogni volta che qualcuno fugge, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Pou Patrol su Nickelodeon! Pou Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Alex è bloccato sulla diga dei castori! Oh no! E la stessa diga impedisce a un salmone di raggiungere il mare! Ma non possiamo romperla perché è la casa dei castori! Quindi per questa missione mi servirà... Sky! Prendiamo subito il volo! E Rubble! Rubble come un raggio! Bene! Al lavoro, Pou Patrol! Guarda, Squeak! È la Pou Patrol! Sky, tira su Alex e Squeak e portali in salvo! Ricevuto, Ryder! Rubble, tu comincia pure a scavare un canale lungo il fiume, così l'acqua e il salmone potranno passare di lì! Subito! Inbracatura! Grazie, Sky! Ci siamo! Ottimo lavoro, Sky! Come va con il canale, Rubble? Ci vorrà un po'! Guarda! È senz'altro una sostanziosa squadra di salmoni! E serve che superino la staccionata di stecche! Mi dispiace, ma mi servirà più tempo per finire il canale! Non fa niente, Rubble! Nessuno si aspettava che i salmoni arrivassero così presto! Se soltanto quella diga fosse un po' più bassa, i salmoni potrebbero saltarla! O potrebbero saltare più in alto! Da questa parte per un gustoso giro di giostra, giovani salmoni! Spettacolare! Che meraviglioso! Sì! E questa idea del lancio dei salmoni ci tornerà utile ogni volta che ci scontreremo con un'altra costruzione dei castori! Ah, grazie, tuo patrol! Non c'è di che, Capitan Turbot! Ogni volta che un salmone è in difficoltà, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! All'arrembaggio? E ora portiamo via questa super nave! Non appena trovo il pulsante di accensione! Assicurati che quel robot rimanga chiuso lì sotto! Quel clandestino è storia ormai! Ora, quale di questi pulsanti? Per tutte le baliniere! Siamo partiti! Nessuna traccia del Sifatroller! Non ancora, Ryder! E ora è scomparso anche Marshall! Oh no! Provo a contattarlo! Ryder, chiama Marshall! Dove sei? Mi ricevi? Non risponde! Forse non sente il suo badge! Ah, questo badge è perfetto per il mio forziere del tesoro! No! No po' cucciolo! Sì! Ecco il piano! Nasconditi dietro quel barile e io attiro sì di lontano dal ponte! A quel punto tu prenderai il controllo! Cucciolo di vedetta! Che cosa fai? Cannone ad acqua! Ho qualche problema a spegnere il cannone ad acqua! Allora lo farò io! È il Sifatroller! È ora di riprenderlo! Reggetemi! Motori avanti tutta! Arrgo! Spegni quel cannone! Che mi venga un colpo! Sì dello spavaldo! Ci riprendiamo la nostra nave! Ryder, come sono felice di vederti! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Ehi Marshall, chi sono i tuoi nuovi amici? Sono gemelli, Ryder! Non è fantastico! Io sono Ella! Io sono Tuck! E stiamo cercando Lady Bird! Lady Bird? Oh! Aiuta! Sono la super cattiva più bella che questa città! Ti ho mai visto! Sindaco Goodway! Una strana donna uccello ha sollevato la mia pulitissima auto in cielo e poi abbia murtato contro il nostro bel ponte! Ma è Lady Bird! Sembra che stia per crollare! Ci pensiamo a noi, Sindaco Goodway! Al lavoro, Super Cuccioli! Oh, Ciccoletta! Super Sky è venuta a salvarci! Ryder, il Sindaco Goodway e Ciccoletta sono intrappolate nel nido di Lady Bird! Dobbiamo trovare un modo per entrare! Ma i Super Cuccioli sono impegnati! Forse so chi potrebbe darci una mano! Noi! È ora di pensare in grande! Grazie! Ehm... Ehm... Super salvataggio! Grazie super cuccioli! Grazie ancora Raider e super cuccioli! Avete salvato me, Cicaletta e tutta Adventure Bay dalla signora uccello! Non c'è di che! Non ce l'avremmo fatta senza i super gemelli! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Attento cugino, questa lente è lucida e senza una riga! Cerchiamo di non rovinarla! Ma certamente! Questa nuova lente di vetro farà splendere il tuo faro come non ha mai fatto prima! Ed è anche ottima per fare delle boccacce se ci guardi attraverso! Carichiamo la lente! E adesso andiamo sull'isola! Vitt, vitt, di cosa? Non credo proprio, sarà un lento e lungo viaggio, così la mia lente sarà al sicuro! Caspita, quei tronchi stanno prendendo fuoco! È meglio fermarsi! La leva del freno è bloccata! Non posso fermarmi! Mi serve aiuto! Bene! Dobbiamo spegnere quell'incendio! Prima però dobbiamo fermare il treno! Ben detto, Marshall! Rubble, afferra il treno usando il gaccio! Poi lo fermeremo con i nostri freni! Non avevo mai agganciato un treno prima d'ora! I tuoi orti! Bene! Freni! E ora spegniamo i tronchi! Auto con cannone ad acqua! Grazie mille, Poe Patrol! Nessun problema! Non c'è di che! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Poe Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Chase! Ma sei tu! Sì! Cicaletta e io stavamo dormendo e quando ci siamo svegliati i nostri corpi si erano scambiati! Oh, questo sì che è strano! Grazie per la velocità, Cuccioli e Cicaletta! Un forte vento ha sollevato la Flander in aria fin sulla cima della montagna di Jake! Rocky, tu costruirai un carrello per riportare la Flander fino alla baia! E Chase, userai l'argano per portare la Flander sopra il carrello! Al lavoro! Poe Patrol! Chase e Cicaletta? Il lavoro di squadra è più complicato, ma ce la faremo! Ne sono sicuro, Cicaletta! Chase! Forza, Rocky! Costruisci il carrello! Il carrello è pronto! Bene, Marshall! Agganciamo la barca al tuo veicolo e riportiamola in acqua! Se il carrello dovesse cedere, la mia barca andrà in frantumi! Cuccioli, il carrello si è sganciato e la Flander sta precipitando verso di voi! Presto! Dobbiamo fermarla! Ottimo! Siamo davanti al carrello! Quando dico ora, tu comincia a rallentare! Pappà! Ora! Pappà! Piano! Piano! E... Pappà! Ottimo! Sì! Tutto bene, Capitano! Oh! 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 È successo anche a voi! Wally e io volevamo dirvi che è fantastico che la Flander sia finita di nuovo in acqua! Grazie, Po-Patrol! Ho di nuovo le mie zampe! È stato solo un sogno! Guarda gli episodi completi di Po-Patrol su Nickelodeon! I motocuccioli sono pronti all'azione, signore! Beh, e tranne Chase! Per questo vi ha chiamato! Dobbiamo trovare il nostro compagno! Diamoci da fare! Rider, ti posso aiutare? Certamente, Wildcat! Ci serviranno le tue abilità di centauro per cercarlo tra gli stretti sentieri del canyon! Grazie, Rider! Bene! Al lavoro, Po-Patrol! State tutti bene? Tu ci hai chiusi qui e tu ci tiri fuori! Lo farei se potessi, ma ho davvero bisogno del resto dei motocuccioli! Ah-choo! Ah-choo! Ne ho sentito un altro! Sembrava provenire da questa parte! Uh! Scavatrice! È Wildcat! Meglio se non ti avvicini! Non voglio farti starnutire ancora! Non è colpa tua, Wildcat! Sarebbero sempre amici! Quei cuccioli si credono tanto bravi! Se costruissi in un aggeggio come questo... Potremmo salvarci da soli e fare un bel po' di guai su due ruote! Oh! Yuhuu! C'è! Wow! Chase, tu salva il pilota! Wildcat, tu salva la moto! Ricevuto, Rider! Oh! Oh! Miau! Silata automatico! Wow! Oh! Rete! Ottimo lavoro di squadra, voi due! È ora di farti passare questa brutta allergia! Ehi, non hai starnutito! Ho aggiunto un filtro ipoallergenico che impedirà a Chase di starnutire ogni volta che lo indossa! Grazie, Rider! Ogni volta che gli starnuti ti creano problemi, noi siamo a... Disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Salve, signor Al! È emozionato per il suo grande giorno? Lo ero! Finché qualcuno non ha deciso di portare via la mia patata arcobaleno e distruggere il mio orto! È terribile! Il fotografo del libro dei vegetali dovrebbe essere qui a minuti! Che succede? È in anticipo! Dicono che oggi è una giornata perfetta per le patate! Tranquillo, troveremo il suo tubero! Nessuna patata è troppo scomparsa per un cucciolo coraggioso! Ora si stiamo a tutto! Io comincio a cercare degli indizi! Direi che è a posto, Rubble! Puoi coprire la buca! Chase! Ci sono novità? Direi di sì! Dà un'occhiata! Ci sono delle tracce di animali! Lancia il drone e vediamo di scoprire a chi appartengono! Così riusciremo a trovare anche la patata! Woo! Drone! Seguiamo quel drone! Si stanno divertendo un mondo! Come ci riprendiamo la patata? Useremo un diversivo! Adesso utilizza il tuo sparapalle per cercare di distrarli! Woo! Sparapalle! Ha funzionato! Ottimo! Ciao, ciao, Castorini! Adesso torniamo alla fattoria! Oh! Un altro fan della patata arcobaleno? Certo! Comincia a radunarsi una folla che vuole vedere la sua patata speciale! Allora, dov'è che si trova? Beh, a dire la verità, la patata è... proprio qui! Bene, bene, bene! Dichiaro ufficialmente che la patata arcobaleno del signor Al è una delle meraviglie vegetali del mondo! Sì! Sì! Woohoo! È vivo! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! State tutte bene? Cos'è questo rumore? Lo stagno! Si sta prosciugando! Meglio chiamare la Paw Patrol! Cos'è questo rumore? Guardate! L'acqua deve essere scesa da questo scarico! Ci serve qualcosa di piccolo per dare un'occhiata più da vicino! Chase! Serve il tuo drone da spia! Drone! Bene! Adesso vediamo dove va! Ehi! Questo tubo finisce in un tunnel! Fino a che distanza può arrivare il drone? Fino a lì! Il drone deve aver colpito qualcosa che blocca il tunnel! Credi che potrebbe aver fermato anche l'acqua? Forse! Ma dovremmo andare a vedere di persona! Zuma! Facciamo un giretto nel tunnel! Forte! Se togliamo qualcuna di queste assi l'acqua ricomincerà a scorrere! E lo stagno delle paperelle si riempirà di nuovo! Buona idea, Ryder! Piano, Zuma! L'acqua non deve arrivare tutta quanta insieme! Perfetto! Ora andiamo via prima che il tunnel si allaghi! Non preoccupatevi, piccoline! Ryder vi riempirà lo stagno! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Cavalieri del soccorso, siamo pronti all'azione, signore! Sparks ha congelato l'entrata del Big Benji intrappolando dentro la principessa e il conte! Chissà che freddo fa! Quindi per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semmaforo verde, signore! E Sky! Questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare! Ah, bene! Al lavoro, cavalieri del soccorso! Attento! È molto scivoloso! Saldatore! Ryder, sono Sky! Li ho trovati! Fermo, Clo! Fermo? Forse intendevi freddo! Atterraggio davvero brusco! Ma almeno ho ricevuto un benvenuto caloroso! Ciao, piccoli! Sono fuggiti, Ryder! Ma ho scoperto perché Sparks sputa ghiaccio! È per via di quei marshmallow blu! Grazie per l'informazione, Sky! Il tuo elicottero? Se la caverà! I miei nuovi amici mi stanno aiutando! Li hai proprio conquistati, Sky! Come va con la porta, Rocky? A meraviglia! Ottimo lavoro! Bravo! Siamo liberi! Ah, sono usciti! Ora torniamo al castello e scaldiamoci un po'! Il ghiaccio si è sciolto e il Big Benji è stato caricato! Adesso possiamo dire grazie, Cavalieri del Soccorso! Non c'è di che, vostra altezza! In ogni occasione, noi siamo... A disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Winnie Winnington è andato allo stagno in cerca di una rana! E ora il suo furgone, il rimorchio e i poni sono impantanati nel fango! Per questa missione avrò bisogno di... Rubble! Rubble come un razzo! E Chase! Ci pensa Chase! Bene! Al lavoro! Paw Patrol! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Ottimo lavoro! Ora riagganciamo il rimorchio, così la signorina Winnington potrà venire alla gara! Sta calma, Felicia! Raggi questa, guiderò io il mio poni fuori da questa disgustosa fanghiglia! Felicia? Non volevo un trattamento di fangoterapia! Zuma, tu vieni subito alla palude! Arrivo, Ryder! Tuffiamoci dentro! Quel povero poni non resisterà ancora a lungo! No! Dobbiamo fermarlo in qualche modo! Usiamo quei tronchi! Tranquilla, Felicia! Ti costruiamo una zattera! Gran bel salvataggio, Zuma! Grazie, bello! Felicia, sei sana e salva! Vi ringrazio con tutto il cuore! Equip di eroi! No, no! Squadra sorgnona! Cioè... Po-Patrol! Proprio quello che stavo per dire! È stato un piacere! Ogni volta che c'è un poni in fuga, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-Patrol su Nickelodeon! Po-Patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Lufavo si è rotto e l'ape regina sta cercando una nuova casa, ma il suo ronzio ha spaventato gli elefanti! Per questa missione mi servirà... Sky! Tu terrai d'occhio gli elefanti nel caso finiscano in qualche guaio! Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro! Po-Patrol! Ryder a Sky! Novità? Sì! Li vedo! No, tesorucci! Non entrate lì! Ryder e gli elefanti sono entrati nel tempio! Presto! Dirigiamoci tutti al tempio! Chase e Tracker! Trovate gli elefanti e fatevi seguire! Ricevuto, Ryder! La galleria è bloccata! Stiamo arrivando, Tracker! Rubble, Marshall, preparatevi al lancio! Aiutiamo gli elefanti ad uscire da lì! Tracker, aggancia i tuoi cavi a quella lastra di pietra e aggancio del Po-Patroller! Ricevuto, Ryder! Woo! Cavi! Ora fate salire i nostri amici su quella lastra! Marshall, bagna il pavimento della galleria con l'acqua! Robo Cucciolo, inserisci la retromarcia e dai gas! Ah! Ci è mancato poco! Grazie per l'aiuto, Po-Patrol! Ogni volta che c'è un animale, grande o piccolo, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-Patrol su Nickelodeon! Fate un bell'applauso alla squadra di salvataggio dei gattini! In qualunque occasione, noi offriamo cooperazione! Quei gattini birboni! Beh, fa sempre comodo una mano all'Adventure Bay! Non ti preoccupare, Chase! La Po-Patrol sarà sempre al primo posto in questa città! Non se i miei gattini continueranno a rubarle il lavoro! Grazie, Ryder! Continuano a cadere dei pezzi di cibo vicino ai tavoli! Ryder, c'è un gattino sul tetto che lancia avanzi di cibo! Ma è impossibile che sia un gattino! Lo sapevo! Sindaco Amdinger, ha organizzato lei quei finti salvataggi, non è vero? Gattini, andiamocene! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Non vedo niente! Quegli stupidi gabbiani! Sindaco Amdinger, va tutto bene? Aiutatemi, gattini! Ho bisogno di essere salvato! Aiuto! Non credo che possano aiutarla ora! Sky, abbiamo bisogno di te! Adesso! Ci penso io! Grazie, Paw Patrol, per aver salvato me e la squadra dei gattini! Non c'è di che, Sindaco Amdinger! In ogni occasione, noi offriamo cooperazione! Oppure, se preferisce, siamo a disposizione! Questo è molto divertente! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! E fate il mio cappello più alto! Dovrà essere il cappello più grande del mondo! Sindaco Amdinger, si fermi immediatamente! Se lei ha la statua di una gallina, io posso scolpire su un monte il volto del sindaco più importante del mondo! Il mio! Io chiamo Ryder! Ha estratto un bel mucchio di rocce dalla facciata della montagna! Ha ragione! La montagna non è stabile! Ridicolo! Aspetta un momento! Perché le orecchie del mio ritratto sono a punta come quelle di un gatto? Non importa! Me lo finirò da solo! Mai chiedere a un gatto di fare il lavoro di un sindaco! Oh, ho veramente un brutto presentimento! Anch'io! Chiamiamo i rinforzi! Marshall, Chase, Zuma, Rocky! Serve il vostro aiuto! Adesso le orecchie sono esattamente come le mie! Fatto! Oh, no, no, no! Oh, no! Va dritta verso Adventure Bay! Sky, voglio riuscire a indirizzare quel masso verso l'acqua! Troviamo un percorso fino al molo! La strada per il porto è libera! Ottimo! Resista, sindaco! La porto arriva! Tutto quel lavoro! Ora la vedranno soltanto i pesci! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Guardate, sono un vichingo! Non ci vedo niente! Oh, no! Guarda che pasticcio! Meglio mettere in ordine, Mini Patrol! Ehi, dov'è la tartaruga? Oh, eccola là! Tartaruga! Ferma! Forza, squadra! La tartaruga è molto veloce! Non vogliamo che si perda! Mettiamoci al lavoro, Mini Patrol! Sono sicuro che la tartaruga sia qui da qualche... Eccola! Eh? Ma non è la tartaruga! È una ciotola del museo! Non sapevo camminasse! Oh, è solo un topolino! Significa che la tartaruga è ancora nel museo! Ehm... Da che parte è il museo? Alex! Alex! È ora di chiamare la Poe Patrol! Tu vedi niente, Chase? Ancora no, Ryder! Prova a usare il faro! Forse Alex lo vedrà! Faro! Alex! Alex! Amici! Qualcuno ci sta cercando! Credo che sia la Poe Patrol! Siamo qua giù! Chase! Illumina da quella parte! Non riescono a vederci! Ma scommetto che vedranno questo! Eccoci! Siamo qui! Quello! È Alex! Li abbiamo trovati! Andiamo! Scusate se sono uscito senza dirlo a nessuno! Ti prometto che d'ora in avanti non uscirò mai più da solo di notte! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Poe Patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Robo Cucciolo, segui il segnale fino al Big Rock Canyon! È dove il signor Wingnut veniva inseguito dai lupi! Il temporale si dirige proprio verso il Big Rock Canyon! Ci sono molte rocce in quei canyon, quindi ci servirà Rubble! Rubble come un razzo! E Marshall, dato che sei in grado di parlare con gli animali, dovrai dire a quei lupi di stare lontani dal signor Wingnut! Sì! Non aspettavo altro! Bene! Al lavoro, Poe Patrol! Marshall, dirigiti nel canyon a sud-est! Si troverà il signor Wingnut insieme ai lupi! Dirò loro di allontanarsi in questo modo! Oh no! Sembra un altro lupo! Ottimo lavoro, Marshall! Io vado a soccorrere il signor Wingnut! Ryder, abbiamo un problema! E ora abbiamo un altro problema, Ryder! Quel temporale che cercavamo di evitare è quasi arrivato! Dobbiamo liberare il signor Wingnut prima che il canyon si allaghi! Marshall, porta il tuo branco fino al Poe Patroller! Rubble, togli di mezzo quel masso! Robo Cucciolo, portaci via dal canyon! Che cosa ci fanno quei lupi qui? Niente paura, sono amici! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Questo telecomando è davvero impossibile da decifrare! Non voglio che il mostro balli il Boogie Boogie! Voglio solo che cammini fino a Foggy Bottom! Oh oh oh, eccoli che arrivano! Quel gigantosauro è gigantesco! Finirà per distruggere qualcosa! Oh? Smettila di ballare! Meglio stare indietro, sindaco Godway! Sembra che il gigantosauro stia per lanciare un'altra palla di fuoco! Vi ho sentito urlare! Che cosa c'è? Oh la lucertola gigante! Oh cielo! Gigaletta! Cotte alla perfezione! Sky, prova a rintracciare il gigantosauro! Alice! Ryder, ho trovato il gigantosauro! Dov'è? Vicino al quartier generale! Oh patrol, al quartier generale! Presto! Adesso salviamo Cicaletta! Parabrenza! Giù! Stai buona, Cicaletta! Presto, Marshall! Sta per far fuoco! Cicaletta! Salta su! Caspita! Punta verso di noi! Pronti, cuccioli! Sta per... Tobi, pronti! Acqua fuori! Ora! Più a sinistra! A sinistra! Così! Resta così! Marshall! Cuccioli, abbiamo fermato il robot! Sììììì! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Poe Patrol, siamo pronti all'azione, signore! In stile Chase! Oscar è scomparso dal ranch del signor Wingnut! Povero Oscar! E poi dobbiamo trovare uno strano veicolo che la signora Yumi ha visto scorrazzare in giro! Ecco perché sarà... Una missione da poliziotti! Ci pensa Chase, il poliziotto! Bene! Al lavoro! Poe Patrol! Chase, quello è il veicolo di Rottami! Cabina su! Chiunque sia al volante non sente! Sky cerca di scoprire chi si trova alla guida di quell'affare! Ricevuto! In avvicinamento! Occhiali! Sembra che ci sia uno struzzo al volante di quei Rottami! Deve essere Oscar! I Wingnut saranno felici che abbiamo trovato Oscar! Ma dobbiamo ancora fermare il veicolo e recuperare Oscar prima che si schianti contro qualcosa! Hai ragione, Ryder! Sky, dov'è diretto Oscar? Si dirige verso la città! Se quel mostro di Rottami continua così, finirà in mare con Oscar al suo interno! Zuma, usa il tuo skateboard per fermare Oscar! Skateboard! Fascia chiudata! Bene! È salvo! Grazie per aver salvato il nostro tesoruccio! Ogni volta che fugge uno struzzo, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Oh, una famiglia di pipistrelli! Guarda come dormono quei piccoletti pelosetti! Torna a dormire piccolino, non è ora di alzarsi! Ma non è affatto oro! È soltanto un vecchio tappo! Oh! Una frana! Potrebbe esserci qualcuno a valle! Ah, devo dare l'allarme! Una frana! Una frana! Che cosa è stato? Una frana! Ah, usciamo subito da qui! Forza, pipistrelli! Dobbiamo uscire! L'è finita? Adesso è finita! State tutti bene qui! Stiamo bene, zio Otis! E grazie per l'avvertimento! Oh no! La famiglia di pipistrelli è intrappolata nella grotta! Tenete duro, amici pelosi! Adesso chiamo la Paw Patrol! Wow! È molto più grande della frana che mi aspettavo! Tranquillo, pipistrello! Libereremo la tua famiglia! Everest, sai cosa fare? Un braccio meccanico! E adesso pensiamo a questo enorme masso! Grazie per averli salvati, Paw Patrol! Ogni volta che un pipistrello cerca casa, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon!